Ciao, sono Cristiano e in questo breve video ti spiegherò come puoi sfruttare al meglio le grandi potenzialità di Viaggio Vero, il sito che ti svela come viaggiare al meglio risparmiando il più possibile. Per prima cosa vai su viaggiovero.com, ecco la nostra home page, aggiornata con articoli nuovi ogni giorno della settimana. A questo punto, per entrare nella nostra famiglia, e ad oggi siamo più di 2000 in continua crescita, devi solamente inserire il tuo nome, anche senza il cognome, e la tua email nel box azzurro che trovi sulla destra del blog. Facendo questo, che cosa ottieni? Ti arriveranno immediatamente i link da cui scaricare le risorse gratis pubblicate finora, e si tratta di ebook, video tutorial, guide, ecc. Inoltre, riceverai ogni settimana una mail contenente i link agli articoli pubblicati, le mie chiacchiere e tanti consigli utili per viaggiare al meglio risparmiando il più possibile. Ma non è finita qui, perché Viaggio Vero è, e diventerà sempre di più, una miniera di risorse. Vediamone insieme qualcuna. Vuoi ricevere una mail settimanale con le migliori offerte di viaggio selezionate per te? Facile. Clicca sul link posto all'inizio di ogni articolo. Alla pagina in cui arriverai, che è questa, non dovrai fare altro che inserire il tuo nome, anche senza il cognome, e la tua email, e cliccare sul bossante Iscriviti ora. In questo modo, ogni settimana riceverai una mail con le migliori offerte di viaggio selezionate da me per te. Altra possibilità. Scarica i nostri prodotti a prezzi low cost, per intenderci il costo di una colazione al bar, dal Viaggio Vero Shop. Il Viaggio Vero Shop lo puoi raggiungere tramite il link posto sulla destra del blog, oppure digitando sulla barra degli indirizzi del tuo browser www.viaggiovero.com slash, che è la barra, shop. Verrai portato a questa pagina, dove potrai trovare guide e video ricchi di segreti, consigli, dritte, siti poco conosciuti e il loro funzionamento. Infine, la Biblioteca di Viaggio Vero, un database con le recensioni di hotel, pensione, ostelli, eccetera, ristoranti e locali, in genere sparsi per il mondo, e testati in prima persona da me o dalle mie collaboratrici. Una biblioteca in continua crescita, che nel giro di pochi mesi diventerà un punto di riferimento da consultare prima di visitare un qualsiasi luogo o una qualsiasi città. Raggiungi la Biblioteca cliccando il link sempre sulla destra del blog, oppure digitando nella barra degli indirizzi del tuo browser www.viaggiovero.com slash, che è la barra, Biblioteca. Eccola qui. Questa è la home page della Biblioteca. Insomma, ricapitolando, noi di Viaggio Vero siamo qui per farti diventare viaggiatore o viaggiatrice, invece che semplice turista. Dimenticavo una cosa importantissima. Io odio lo spam, ed è per questo che alla fine di ogni mail che riceverai da me, troverai sempre un link con cui cancellarti da Viaggio Vero in un secondo, senza fronzoli o problemi. Ti saluto, e ci vediamo dall'altra parte. Grazie. Grazie. Grazie.